Come fattori che hanno trascinato questa azienda ad avere un buono sviluppo c'è stato un cambiamento radicale di quella che era la cultura, quindi i processi, l'information technology, i rapporti con le nuove tecniche di marketing, l'internet eccetera. Tutti questi grandi fattori hanno contribuito a cogliere le grandi opportunità che il mercato comunque ci stava prospettando. Il nostro è un settore che si dedica dai prodotti all'engineering e quindi evidentemente la qualità, le certificazioni sono elementi, dei fattori importantissimi per lo sviluppo e noi abbiamo puntato su quello, quindi qualità di processo, tecnologia, sviluppando prodotti e tecniche di processo molto sofisticate che si dovevano trovare consenso nei confronti dei clienti finali che erano appunto i nostri clienti delle valvole piuttosto che le grandi engineering mondiali. E questo è stato un po' il nostro processo. Abbiamo iniziato ad assumere anche figure di giovani ingegneri internazionali quindi abbiamo preso persone del Bangladesh, master al Politecnico di Milano, abbiamo cercato di investire quindi anche in processi e in tecnologie nuove, abbiamo fatto grandissimi corsi di formazione per tutta la struttura e tutto all'interno di un processo che vedeva nel mantenimento della qualità della certificazione per l'ambiente e per la sicurezza dei pillars molto importanti per la crescita dell'azienda.